Siamo qui al termine di un match assai improbabile sulla carta che è quello tra Messico e Cina finisce 13 a 3 per la Cina, partirei subito dal Messico ragazzi è una partita che è nata bene però poi a un certo punto è diventata tra le bollette storta ma semplicemente per il valore gli avversari bisogna riconoscere Sì, gli avversari erano uno superiore di scelta purtroppo il nostro giocatore non è in forma Per di più eravate contati Esatto, eravamo contati nuovi campi e alla fine nostra abbiamo volato È diventata difficile poi avete resistito per tanto tempo poi naturalmente subendo sempre a un certo punto Sì, sì, poi il morale si abbassa È chiaro Alla fine abbiamo volato però Ragazzi non sono queste naturalmente le partite da vincere ce ne sono tante altre, ci sono tanti avversari che alla vostra portata quindi credo che bisognerà stringere i denti e magari soprattutto portare qualche elemento qui sulla campagna Sicuramente dovevano venire ma non c'è la propria Sì, la prossima volta spero che arriveranno a prendere Grazie mille ragazzi, in bocca al lupo per le prossime e ti faccio salutare gli avversari Giuseppe, invece per voi era un inedito non vi conoscevamo, arrivate subito, scoprite le carte un po' come il giocatore di poker che cerca di bleffare però alla fine non ci riesce ci avete fatto vedere un gran bel calcio tanto divertimento forse, certo, l'avversario era di un livello inferiore bisogna dirlo, credo l'abbiano messo anche loro però comunque è un buon inizio Sì, innanzitutto buonasera abbiamo cominciato adesso questo torneo la prima partita purtroppo non l'abbiamo potuta fare siamo super entrati e siamo molto felici per fare questo torneo comunque noi siamo qui per divertirci alla fine sì, giochiamo bene ma diciamo che la prima cosa appunto è il divertimento noi vogliamo divertirci e far divertire è una parola grossa perché non siamo avanti a un pubblico di ai spettatori però comunque vogliamo far divertire almeno chi c'è attorno tra di noi, chi c'è sulla panchina e comunque dopo ci andiamo a mangiare qualcosa quindi alla fine è questa la cosa importante questo è lo spirito perfetto non aggiungo altro perché questo è tra virgolette il top è lo spirito di questo torneo mi fa molto molto piacere che ci siate anche voi grazie mille, complimenti e bocca al lupo per le persone ciao